La caccia alla ciliegina da piazzale sulla torta continua. L'ultima suggestione è stata lanciata direttamente da Sky e reca il nome di Gabriele Gori, attaccante di 24 anni di proprietà della Fiorentina. Dopo quasi 100 presenze in cadetteria, dove ha messo a segno tre gol lo scorso anno con la maglia della regina e cinque due anni fa con quella del Cosenza, l'attaccante centrale in scadenza di contratto con i Viola è finito fuori dall'orbita della prima squadra. All'ex ariete dell'Arezzo, l'Avellino avrebbe offerto un lauto triennale per sbaragliare la concorrenza della Lucchese e soprattutto del Catania. Proprio quest'ultimo indizio, tuttavia, induce a pensare che possa trattarsi della classica manovra di disturbo, dal momento che le caratteristiche di Gori sono abbastanza simili a quelle di Patierno e Marconi, bomber inamovibili. Abile nel gioco di sponda e nel destreggiarsi spalle alla porta, l'eventuale arrivo di Gori accrescerebbe logicamente di molto il potenziale offensivo di una squadra che per accoglierlo dovendo rispettare la lista dei 24 da presentare in Lega, dovrebbe comunque privarsi di Marcello Trotta. L'ex Frosinone, informato dell'eventualità da qualche giorno, non ha di certo fatto salti di gioia ma ha reagito da professionista. Tuttora, sulla strada della guarigione, dopo le operazioni al polso sinistro e al piede destro dello scorso giugno, Trotta ieri è stato sondato dalla Triestina di Attilio Tesser. L'abboccamento nei prossimi giorni potrebbe sfociare in qualcosa di concreto. Mamma Ducca Nutè ha invece preso da ieri pomeriggio la strada di Taranto, chiudendo dopo due stagioni la sua parentesi in bianco-verde con 57 presenze e 5 gol in totale. L'operazione è stata condotta in prima persona da Ezzolino Capuano che dopo aver tentato in vano di mettere le mani su Vasquez del Gubbio si è sostanzialmente vendicato degli Umbri allenati da Piero Braia, soffiandogli l'ex Palermo con un vero e proprio blitz. Restando sempre sul binario delle uscite, il Messina è tornato alla carica con Vincenzo Plescia. L'attaccante siciliano, messo davanti all'ipotesi di finire fuori lista, sta prendendo per la prima volta in serie considerazione l'idea di trasferirsi sullo stretto. Antonio Matera invece si avvicina, grandi passi al Cerignola di Ivantisci, favorito sul Foggia, mentre Casarini è sempre alle prese col Rebus Romagnolo perché il Rimini nostalzando l'offerta mentre il Piacenza, ma in serie D, è disposto a fargli punti d'oro.